C'è un'apertura dove chiunque può passare, quindi proviamo anche noi a entrare. Amici, noi non stiamo scavalcando, è un'area dismessa e guardate un attimino questa apertura. In pieno giorno. Comunque è pericolosissima. In pieno giorno. Almeno uno mette in sicurezza questa parte. Entriamo. Vieni Rita. Allora Rita, parlando con gli abitanti, comunque ci hanno invitato ad entrare dentro a vedere il cinema e il teatro. Vediamo, magari c'è uno spettacolo in corso. Ok, io non ho coraggio. Oh mamma. Oh mamma. Luce per favore. Luce, luce, attenzione. Guarda che spettacolo. Minchia, qui anche si sta prollando tutto. Oh mamma, mi fai un po' di luce Rita? È anche pericoloso. No, no, è pericolosissima, attenzione. È pericoloso, però io ve lo voglio far vedere, amici. Pazzesco. Che peccato, mamma mia. Mamma mia, che peccato. Rita, vieni, vieni. Anche se è pericoloso, ma noi stiamo facendo un mestiere per far vedere che comunque, in quale condizione si trova il nostro. Mamma mia. Amici, guardate un po'. Questo non è il telefono, non l'alto. Assolutamente. Mamma mia. Mi fanno un altro punto qua. Con la telecamera si riesce a far vedere? Guardate che è forato proprio. Guardate un attimino. Guardate là. È pericolosissimo. Ma a me fa quasi paura, sinceramente. Ma è vero. Prima che hai raggiunto. Aspetta, guardate il palco. No, dove vai? Vai, senta, mi fa. Non lì, però, non è bello. Non l'alto, non l'alto. Oh, attenzione. Ma se ti volete. Mi un tempo. Tu stai lì, ferma, mi fa. Io sto qua. Attenzione, mi fieni. Ma, mamma mia. È pericolosissimo, mazzo. Morì, prima che fai il fenomeno fai tu un mare o lo stai dentro? No, no, guarda. Allora, c'è una buca enorme e qui tutto si sta frollando. Si sta frollando tutto. È pericolosissimo. Andiamo via, ragazzi. Si riesce a far vedere? Guardate un attimino anche il primo piano. Un pezzettino di soffitto si è già crollato. Attenzione, se nessuno interviene, qui si rischia davvero di combinare un disastro. Amici miei, già uscire fuori da qui è un pericolo. Cavolo. Guardate questo pezzettino che era in alto e qui si è crollato e si vedono tutti i pezzi staccati che si stanno staccando. Arriamo. Rita, ti ho perso? Dove sei? Dove sei? Dove sei?